Salve, siamo sempre noi. La domanda non è perché, ma la domanda è possiamo farlo? E la risposta è sì. Qui c'è il mio amico Nicolò di Safari. E vogliamo fare un esperimento, però vogliamo avere un'esperienza del disagio. Ma che dire, siamo di fronte all'ennesimo capolavoro ermetico, ma estremamente semplice in quelli che sono gli intenti, in quella che è la sensibilità intrinseca all'opera. Stiamo assistendo ad una sfumatura di colore nuova nella storia del cinema, e perché no, è la storia del cinema del nostro paese. Un applauso a questi fantasiosi ragazzi che hanno fatto del nulla qualcosa di così tangibile, da far figurare l'universo intero. Mi sento molto più agio in questa cosa, è proprio un disagio. E' proprio questo il punto, vogliamo disporre questo divanetto nel centro di questa enorme ana della fiera di Bari per poter avere esperienza della vera e propria essenza della vita umana. Solo in mezzo al nulla, cioè spiazzato. Iniziamo con questo racconto surreale, prego. Iniziamo con questo racconto. Iniziamo con questo racconto. e la chiudiamo. In Venezia, saremo presenti e vi raccomando ragazzi, venite a salutarci e a capire la nostra opera. E quindi per rincontrare il vero significato del disagio sociale tra gli ingenti. Ok, operatore 2. Esatto. Questo è il disagio, sotto forma di disagio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.